Bisogna attendere 499 giorni per una tomografia computerizzata all'ospedale San Carlo di Potenza, 411 per sottoporsi a una colonoscopia al CROB di Rionero in Vulture o 313 per una spirometria all'ospedale di Matera, per non parlare di prestazioni per le quali non esiste una data. Per questa ragione sono stati definiti preoccupanti i dati emersi dal report sulle liste di attesa del sistema sanitario regionale della Basilicata presentato a potenza dall'unità di crisi sanitaria della Basilicata attraverso il portavoce Michele Cataldi. L'indagine è stata condotta in modo empirico sulle 69 prestazioni specialistiche ambulatoriali, definite critiche dalla Piano Nazionale di Governo delle liste d'attesa attraverso contatti telefonici per tre giorni consecutivi con il centro unico di prenotazione regionale della Basilicata per prestazioni da seguire entro 10 giorni, entro 30 per le visite e entro 60 per gli accertamenti diagnostici. Il report ha evidenziato anche le prestazioni per le quali da date più breve. Per una ecografia ostetrica all'ospedale di Lago Negro basta un giorno, quattro per una prima visita oncologica a Villa d'Agri, sei per un'ecografia all'addome a Melfi. La nostra, ha detto Cataldi, è una fotografia della realtà. Abbiamo contribuito alla realizzazione della legge regionale che punta all'abbattimento delle liste d'attesa. Ora occorre metterla in pratica in maniera rapida perché, in forza dei numeri del nostro report, si tratta di una vera e propria corsa contro il tempo, anche per scongiurare la mobilità sanitaria passiva e anche peggio. Il rischio che i pazienti rinuncino addirittura alle cure. Il Piano Nazionale, aggiunto, stabilisce che le prestazioni successive al primo accesso devono essere prescritte dal professionista che ha preso in carico il paziente, ma in Basilicata gli specialisti che lavorano nei centri accreditati ancora non sono abilitati alla prescrizione tramite ricettario del Servizio Sanitario Nazionale.